La Puglia è la seconda regione in Italia per furti di auto a noleggio. Il dato, che di certo non riempie di orgoglio, è stato diffuso in una nota dell'Associazione Nazionale Industria dell'Auto Noleggio e Servizi Automobilistici, che guarda con preoccupazione un trend che è in costante crescita in tutto il meridione. Nel 2013 sono stati 246 furti di auto a noleggio nella nostra regione, seconda solo alla Campania, che ha fatto registrare ben 485 casi. Ma la tendenza è poco rassicurante anche nel resto del paese, dove i furti di auto a noleggio a breve termine, vale a dire quello turistico e per affari, sono cresciuti di quasi il 40% rispetto al 2012. Ogni giorno, prosegue il comunicato dell'Associazione, più di tre auto vengono sottratti alle aziende del settore, con un danno economico complessivo che supera i 20 milioni di euro. E nei primi mesi del nuovo anno il trend sembra addirittura in aumento. La Puglia è la regione che lo scorso anno ha registrato una maggiore crescita del fenomeno, oltre il 60% in più rispetto all'anno precedente. Tutto questo, denuncia la Niasa, accade senza che le istituzioni centrali e locali riescono a contrastare il fenomeno, più volte segnalato dall'Associazione, e che rischia di costringere i grandi operatori multinazionali e nazionali del noleggio a breve termine ad abbandonare le aree strategiche per l'offerta turistica del nostro paese. Solo tra Puglia, Sicilia e Campania sarebbero a rischio più di mille posti di lavoro.